giovedì 30 ottobre 2014 dalla terrazza della marinella ecco lo spettacolo della giornata tempo sereno mare tranquillo e una silver spirit che imbianca il nostro golfo i passeggeri già stanno scendendo a terra ha dato fondo da circa una mezz'oretta rimarrà fino alle 6 di questa sera quasi sicuramente proveniente da civita vecchia o diretta a cività vecchia è una di queste piccole navi da crociera per non oltre 6 700 passeggeri che toccano porti piccoli piccolissimi come l'ipari ponza ventotene corfu una crociera al giorno toglie la crisi di torno questo è il motto che in questi ultimi giorni questo sprazzo di estate autunno stiamo paventando